In sella la mitica Vespa Piaggio su per le coline San Miniatesi si arriva a Forcoli per festeggiare una storia lunga 36 anni, quella della mostra mercato del tartufo. Il 7, 8 e 9 ottobre nell'area del centro Nuova Primavera di Forcoli, in provincia di Pisa, torna la festa del diamante di questa terra, il pregiottissimo tartufo bianco. La storica manifestazione è stata presentata in consiglio regionale della Toscana. Il tartufo di Forcoli è un segno di come nel tempo si sia sviluppato il territorio della Valdera. Trovare del buon tartufo può avvenire nei luoghi incontaminati, nei luoghi in cui rispettiamo l'ambiente ed è bello sapere che in quel territorio, nella Valdera, c'è ancora spazio per questa che è un'eccellenza e una gemma non solo toscana ma a livello nazionale e internazionale. Il borgo di Forcoli si trasformerà in quella che gli organizzatori chiamano corte di re tartufo, dove gustare e degustare il prezioso frutto della terra, insieme al fungo porcino, accompagnato dai vini generosi e dal delicato olio extravergine di oliva. Il tartufo racconta davvero le migliori qualità del territorio, del territorio palaiese, che è una delle aree maggiormente evocate alla produzione di questo pregiatissimo tubero. Quest'anno il tema della mostra è Vespa e tartufo, due eccellenze del territorio unite da un'antica storia d'amore. La Vespa è stato il primo mezzo di locomozione per i tartufai, per raggiungere con facilità i nostri boschi, girarli, percorrerli, a volte anche nascondere il mezzo stesso per non farsi scovare dagli altri colleghi tartufai. E quindi racconteremo anche questa storia. Proprio per soggellare questo binomio, quest'anno l'amministrazione comunale di Palaia e gli organizzatori hanno deciso di premiare con il tartufo d'oro Riccardo Costaiola, presidente della Fondazione Piaggio. La premiazione avverrà venerdì 7 ottobre durante la cena di gala, l'appuntamento che ogni anno inaugura la mostra. Non mancherà un'esposizione delle due ruote d'epoca a cura di Andrea Fiore. In pochi forse sanno che la mostra Mercato del Tartufo ha un cuore d'oro, perché è organizzata dall'associazione Nuova Primavera, che da sempre sostiene con l'evento l'aggregazione giovanile e le attività sportive del territorio di Palaia. Il nostro obiettivo è fare una festa, come abbiamo fatto gli anni passati, con ottimi risultati, che ci dia la possibilità poi di far vivere le nostre attività associative. Abbiamo circa 250 ragazzi che fanno sport con noi tra il calcio, il pattinaggio, più altre attività collaterali, quindi il nostro obiettivo è esattamente questo.